Musica Bene amici, abbiamo visto fino ad adesso come funziona la matrix cosa sono le informazioni dove vengono scritte le informazioni come vengono scritte le informazioni ora la cosa più importante da sapere è come fanno queste benedette e maledette informazioni ad arrivare a noi e condizionarci pesantemente nella nostra vita bene, ecco la medicina quantistica fino ad adesso io vi ho detto in realtà ben poco di quantistico ho usato molto la fisica einsteiniana anche la fisica classica per descriversi delle cose ora questa qui è solo quantistica abbiamo scoperto la prova scientifica c'è in parte perché nel sincrotrone sono stati fatti gli esperimenti ma tutti i giorni stiamo facendo nuovi esperimenti e l'universo comunica attraverso una proprietà delle particelle cioè perché ragazzi le frequenze vanno benissimo voi su internet quante volte avete trovato dei messaggi che dicono devi cambiare la tua frequenza il cervello si è messo su una frequenza disarmonica e quindi tu devi metterti sulla frequenza oppure mettiti sulla frequenza dell'OM 432 Hz oppure la frequenza della Terra 8 Hz a parte che insomma io non so mica una radio che mi sintonizzi mi devi spiegare come faccio primo secondo nell'OM ci posso anche arrivare perché è una frequenza vocale ma ragazzi noi abbiamo una frequenza di 432 Hz no noi abbiamo una frequenza ognuno per conto suo e soprattutto cambia continuamente durante la giornata sono più stanco, sono meno stanco più calore, meno calore cambia continuamente la frequenza non ha senso l'OM mi fa bene perché mi rilassa mi troglie la sindrome d'abbandono assolutamente no l'OM non toglie la sindrome d'abbandono o quantomeno non con le frequenze questa è una cosa altra chicca scientifica le frequenze sono forme d'onda sono energia e viaggiano a 300.000 km al secondo punto ora diciamo ammazza l'uomo stesso non è mai riuscito a costruire un missile dire che vada a quella velocità ma nemmeno lontanamente noi riusciamo a un missile va a 6.000-7.000 km l'ora al secondo sì certo nei sincrotroni acceleriamo la particella cioè una cosa che non pesa niente acceleriamo con dei campi magnetici quindi figuratevi no per noi è una velocità stratosferica ma l'universo è immenso noi tanto per non spostarci da casa nostra quando guardiamo il sole non lo stiamo mica guardando come adesso lo stiamo guardando come era 8 minuti e mezzo fa perché la luce che è una forma d'onda composta soprattutto da fotoni i fotoni arrivano a noi a 300.000 km al secondo dopo 8 minuti e mezzo 149 milioni di chilometri diviso 300.000 fa quella cifra lì Orione che è una delle stelle più vicine a noi ha soli 4 anni di luce è una cifra allora un anno di luce è una cifra con 38 zeri cioè 38 zeri noi se io vi faccio vi dico quanto spazio prendono 10 monete da un euro e tu mi dici così 100 ma sarà così già mi dici sarà se io ti dico mi descrivi quanto spazio prendono 10.000 monete da un euro tu non lo sai nessuno lo sa forse un bimbo autistico potrebbe dirtelo ma non lo sai allora ragazzi noi ci fermiamo a 4 zeri ce ne sono 38 pensate a qualcosa di assolutamente immenso già quello che sta vicino a noi pensate a quello che non vediamo che sta più lontano quindi per dirvi anche i fisici perché sono arrivati a questo perché era chiaro che la natura non non colloquiasse fa di lei così soprattutto quando mettiamo gli zeri qua ragazzi ogni zero per 10 è michael doppio quindi l'universo comunica con l'entanglement qual è la caratteristica dell'entanglement che non è un sistema di comunicazione è una proprietà della particella cioè di questa questa ha delle proprietà quali sono le sue proprietà lo spin è una proprietà cioè il giro che fa intorno al nucleo quella è una proprietà ma un'altra proprietà è l'entanglement e cosa succede? in fisica se tu prendi due particelle una positiva e una negativa le metti insieme attaccate e le fai convivere in un periodo di tempo quando le separi bruscamente le mandi in due parti dell'universo o dell'universo no una di qua una di là indipendentemente dalla distanza che queste particelle hanno se io qui metto un bel campo magnetico e questa particella che viaggiava così da dove stavano insieme viaggiano insieme se il campo magnetico fa deviare questa particella questa se ne devia pure lei si chiama entanglement ma ci deve essere un entanglement su questo traduzione in italiano? non c'è diciamo affinità energetica io ho coniato una mia anche perché non voglio correre il rischio che quando enuncio le mie le mie osservazioni il metodo che io utilizzo su cosa si basa qualche brillante fisico mi dica guarda che l'entanglement non è mica provato scientificamente va bene costo scientifico va bene ci sono tante cose che non sono scientifiche ma noi facciamo e usiamo anche medicinali di cui non si sa perché funzionano ma non è che non li prendiamo perché non si sa perché funzionano l'importante è che funzionino statisticamente almeno in una percentuale ottenibile con delle controindicazioni accettabili quindi spesso sono più importanti le controindicazioni che tutto il resto quindi ok questa è la parte fisica quantistica nella parte vita di tutti i giorni il gemello ha un incidente l'altro gemello si sveglia nella notte la cosa interessante sapete qual è che il tempo di comunicazione è zero due particelle o due persone che sono entangled e una prova un'emozione l'altra ne riceve l'informazione non è che prova la stessa emozione riceve l'informazione che potrebbe provocarne un'emozione altro entanglement di tutti i giorni a chi non è capitato mai di pensare ad una persona e dopo qualche tempo breve magari quella ti telefona o la incontri o te ne parlano o quella dice oh stavo per chiamarti entanglement vi faccio qualche esempio del cancro l'esperimento della pupilla fantastico questo hanno preso due quando non c'avevano poi strumenti tutte queste cose qui hanno preso due persone scelte fra un numero congruo di persone tra quelle che simpatizzavano di più le più affini le più armoniche fra di loro le hanno tenute a fare conoscenza due ore in una stanza poi le hanno bruscamente separate e le hanno messe in due stanze buie e hanno cercato una persona sul faro sinistro scusate sull'occhio sinistro con un faro la persona che stava nell'altra stanza ha chiuso la pupilla sinistra entanglement le persone con cui noi abbiamo un rapporto a cui vogliamo bene che ci vogliono bene ci rendono entangled con quelle persone la sincronicità di Jung sviluppò il concetto di sincronicità di se appunto c'aveva un gemello ricoverato e l'altro no? ma andatevi a vedere la sincronicità e la coscienza collettiva di Jung ci sono dei video su Youtube interessantissimi no? interessantissimi la funzione clorofiliana è entanglement è stata messa una pianta al buio con un laser chirurgico a bassa potenza sono state illuminate poche cellule migliaia di altre cellule hanno attivato la funzione clorofiliana ovviamente non sappiamo perché ma sono entangled il tempo è zero l'esperimento sul DNA di Luke Montagnelo scopritore del virus dell'AIDS uno scienziato andatevi a vedere accelera un pochino l'entanglement quindi è una connessione il cervello l'inconscio la nostra parte inconscia si connette al campo ed è l'entanglement è il principio della fisica attraverso il quale riceve l'informazione esempio entro in un sono single vado a una festa invitato ovviamente sono single mi piacerebbe tanto avere un partner un partner entro vado in una festa il cervello ovviamente si commuta nelle giuste modalità per il cambiamento che sto facendo la parte cosciente controlla ricordatevi che la vostra coscienza quasi sempre controlla solamente il problema è non farla controllare quindi che cosa fa la coscienza controlla l'ambiente perché non si sa mai qualcosa di ostile la parte inconscia che è connessa alla matrix che cosa fa modula le sue frequenze cioè cosa fa il cervello entra vedo una ragazza carina mi si avvicina mi sorride io le sorrido sento che c'è un'armonia mi piace cosa succede l'inconscio ha un cambiamento nella frequenza chiamiamola così che poi è un ologramma nella frequenza che sto vivendo e comincia automaticamente a connettersi nel campo a tutte le possibilità che quella esperienza può produrre ora un partner può produrre cose belle come amore fare l'amore andare al cinema condividere delle emozioni ma ci sono anche delle possibilità pesanti posso essere tradito posso essere abbandonato posso essere maltrattato bene nel momento in cui l'inconscio mette la sua frequenza quello che sta vivendo nel campo e io mi sono sentito abbandonato da piccolo attenzione cosa succede entanglement c'è un entanglement fra quegli atomi e particelli che contengono l'informazione dell'abbandono e il qui e ora connessione automatica perché ricordatevi è una proprietà della particella è una proprietà della particella quindi quella roba lì allora è quello che sto vivendo le particelle le loro proprietà sono entangled quindi le possibilità che il mio cervello sta analizzando a velocità spaziale sono assolutamente corrispondenti quindi partner possibilità di abbandono presenza dell'abbandono entanglement ma connessione arriva l'entanglement ma l'inconscio come vi trasmette che c'è stato un entanglement con l'emozione perché il campo la coscienza collettiva ma chi lo sa come parla non parla certo l'italiano che è una lingua recente potrebbe parlare l'aramaico boh chissà comunque parla ad archetipi diciamo così si dice che l'informazione archetipica cioè un modello arcaico ci arriva sotto forma di emozione ci siamo? quindi l'emozione è la risposta al connessione così ci arrivano le informazioni quell'emozione a cosa ci serve? ci servirebbe a fare la scelta piccolo problema se io non ho guarito la mia sindrome di abbandono come dicono molti psicologi correttamente tu scegli la persona che ti abbandona perché ti è più familiare io ti dico tu scegli la persona che ti abbandona perché sei entangled è una differenza terribile perché lo psicologo si rifà un concetto psicologico io mi rifaccio alla fisica quantistica ma il risultato finale è che tu ti prendi la persona che ti abbandonerà ci siamo se funzionasse tutto bene quindi si fosse superato il trauma non ci sarebbe l'entanglement e io sarei libero di valutare quella persona non mi è familiare quindi dico ma tu chi sei guarda sai che io sono stato abbandonato guarda l'unica cosa che adesso voglio è una persona fedele o che è affidabile perché fedele è tradimento affidabile è abbandono ok quindi capito come arrivano a noi non c'è difesa sì che c'è difesa c'è una difesa che sarebbe avere una frequenza direttiva agire in modo direttivo ma questa non è competenza di questa cosa l'importante è che voi capiate come siamo condizionati ora andiamo nella parte più bella come noi facciamo a con matrix connection a scanciarci da questo però prima un piccolo capitolo coscienza e inconscio come funzionano perché io fino ad ora vi ho parlato di coscienza e inconscio ma vi è rimasto questo piccolo buco di cosa intendo io no? potremmo anche andare avanti così non è un problema ve lo aggiungo perché è molto simpatico anche per capire come noi siamo condizionati e come funzioniamo mh? mh?